Quest'anno è stato un anno molto difficile anche per tutto il mondo del volontariato e del no profit. La crisi economica che ha tagliato salari e pensioni ha avuto inevitabilmente anche delle ripercussioni negative su quelle che sono le donazioni a favore dei poveri del sud del mondo e anche dei nostri poveri locali. Per esempio da quel che ci risulta attualmente circa 200 sono stati gli aderenti del progetto di sostegno a distanza che si sono ritirati appunto dal progetto per difficoltà di tipo economico e vediamo che c'è anche un numero crescente di persone che effettivamente fanno fatica a donare, a continuare a donare come negli anni scorsi. E mentre a livello governativo sono stati ormai azzerati gli aiuti sia ai poveri di casa nostra sia ai paesi del sud del mondo, la miseria purtroppo sta dilagando un po' ovunque. Anche a Natale un miliardo di persone andrà a letto senza aver mangiato a sufficienza. Come se si mettessero in fila uno dietro l'altro, questa fila farebbe 20 volte il giro della terra. Insieme si può quindi chiede a tutti i belunesi di collaborare anche a Natale nella costruzione di un mondo più giusto. In Uganda, in Madagascar, in Brasile ma anche a casa nostra migliaia di persone potranno trascorrere un Natale migliore grazie al cibo, al latte, alle zanzariere, alle carrozzine per disabile che verranno distribuite proprio anche in questi giorni dai nostri volontari. Per esempio c'è la possibilità di fare un dono diverso e originale ad amici, familiari, colleghi e persone che ci sono care. In questo momento dove c'è la caccia, c'è la rincorsa al regalo, anche se quest'anno dicono un po' più problematica, proprio a causa della crisi, noi proponiamo di fare un regalo del tutto speciale. Un regalo che abbiamo definito senza frontiere, una capra per una donna dell'Afghanistan, un parto sicuro per una mamma del Madagascar, un campo di girasoli per le donne della Tanzania sono solo alcuni degli esempi di regali che si possono fare per far felici qualcuno e nello stesso tempo far felice anche tutto sommato chi qui riceverà il biglietto che noi daremo proprio a testimonianza di questo regalo. Per notizie in più basta collegarsi al sito di Insieme Si Può www.365giorni.org o telefonare direttamente in ufficio. Poi se vi capita in queste feste di andare a cena o a pranzo in uno dei 130 ristoranti della provincia che hanno aderito al progetto Il Pranzo è Servito, ci sarà la possibilità, volendo, di donare un euro o più che servirà per mettere a tavola anche 5 bambini in Uganda. Infatti 20 centesimi è quanto costa un piatto di polenta e fagioli appunto in Uganda. e rimane poi anche la possibilità di sostenere a distanza un bambino orfano. Con 310 euro all'anno si può veramente fargli un regalo, un regalo veramente grande che dura tutto l'anno. Buon Natale a tutti e un caro augurio anche di un sereno 2012 naturalmente con tutti quelli che stanno peggio di noi e basta veramente poco.